Buonasera a tutti, sono Ludico Caverni, sono il sindaco di Serra Santa a Bondio in provincia di Pesolo Urbino. Volevo fare un appello ai miei concittadini in primis ma a tutti i cittadini italiani. Nei prossimi mesi l'Istat spedirà delle lettere a casa vostra con cui vi chiederà il permesso di partecipare all'indagine come avveniva qualche anno fa ogni 10 anni e adesso l'indagine è annuale e a random verranno scelti dei cittadini. Vi chiedo di rispondere in maniera affermativa in modo che gli incaricati dell'Istat verranno con un tablet e vi sottoporranno delle domande. Quindi dateci una mano perché questo raccolte di dati così in questa maniera viene fatta in maniera meno costosa e con maggiori risultati.